ciao a tutti benvenuti sul mio canale di youtube mettete mi piace condividete commenti like e subscription oggi volevo farvi vedere come si fa a sapere se qualcuno ti sta spiando bene che ti sta spiando basta schiacciare sta hashtag 21 21 hashtag e chiamare vedi che ti vieni di versione chiamate in inondazione voce inoltre non effettuato fax inoltre non effettuato sincronizzati non effettuato se vedi che è scritto tutto così volete nessuno ti sta spiando grazie buona serata